Tornano i collegamenti con la Sicilia a dicembre dall'aeroporto d'Abruzzo. Lo rende noto la Saga, società di gestione dello scalo pescarese, specificando che in occasione delle festività natalizie saranno disponibili quattro voli tra Pescara e Palermo. Nello specifico sarà possibile volare sabato 18 dicembre, martedì 21, lunedì 27, mercoledì 29 dicembre e poi ancora gennaio il 3, il 6 ed il 9, con sempre due tratte per ciascun giorno. Dopo un mese di pausa tornerà anche il collegamento aeroporto d'Abruzzo-Catania. La tratta verrà effettuata sabato 4 dicembre, mercoledì 8, domenica 12, giovedì 16, domenica 19, martedì 21, giovedì 23, domenica 26, martedì 28, giovedì 30 dicembre e poi a gennaio lunedì 3, mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9. Oltre che per la Sicilia a dicembre ripartiranno i voli per Malta. Da sabato 4 dicembre si volerà anche martedì 7, sabato 11, martedì 14 dicembre, sabato 18, martedì 21, giovedì 23, martedì 28 e poi a gennaio due volte a settimana, il martedì ed il sabato. Restano invariati i collegamenti da Pescara per Torino, Bruxelles, Charleroi, Bergamo, Orio al Serio, Bucarest, Londra, Francoforte e Tirana. Restano i due collegamenti poi giornalieri con Milano Linate. Con il mese di dicembre molti vettori hanno deciso di potenziare le frequenze dei collegamenti già in essere con l'aeroporto d'Abruzzo. Ha evidenziato il presidente della saga Vittorio Catone a dimostrazione dell'attrattività del nostro scalo. I collegamenti, ha detto ancora Catone, diventano un'occasione per gli abruzzesi di raggiungere le varie destinazioni che abbiamo per la stagione winter, ma anche per l'Abruzzo di accogliere durante il Natale un po' di turisti mostrando le nostre bellezze.